Rientra lo stato di agitazione dei lavoratori di ecoambiente la società provinciale che ha in affidamento l'ex stir di Batipaia. Scongiurata la messa in liquidazione, ora gli operai dell'impianto di trattamento meccanico-biologico possono rientrare senza la spada di Damocle del licenziamento, come stabilito dall'Assemblea dei Soci convocata il 7-8 giugno che ha messo all'ordine del giorno il diniego alla privatizzazione con la relativa tutela occupazionale e dei premi di produttività rivendicati dalle maestranze sindacali. Entro domani in prefettura verrà rievocata ufficialmente la crisi come dichiarato dal commissario liquidatore Vincenzo Petrosino.